Ben ritrovati, buona domenica. Oggi vi insegniamo, vi vorremmo insegnare come preparare il pasto per i nostri amici animali, per i cani in particolare, dandogli da mangiare qualcosa di veramente buono per loro, però spendendo il giusto. Ecco, ce lo spiega oggi Raffaella Millonig dell'Associazione Animali Persi e Ritrovati, che ci farà vedere appunto come preparare l'alimentazione principale per i cani, andando dal macellaio, prendendo carni comunque buone e facendo una pappa equilibrata anche dal punto di vista degli animali. Sì, ciao, buongiorno, benvenuti. Incredibile, ma vero, ma con 30 centesimi al giorno si riesce a preparare un'alimentazione assolutamente equilibrata e bilanciata per i nostri cani, utilizzando quello che riusciamo a trovare comunemente in commercio. A tal proposito, dobbiamo però sapere un qualcosa, un pochino, sull'alimentazione dei cani in genere. Innanzitutto, non è vero, si è capito che ormai il cane sarebbe meglio che mangiasse due pasti al giorno e non uno. Cosa dare da mangiare al cane? Il cane ha bisogno di un'alimentazione per forza di cose equilibrata, fatta di carboidrati, quindi di pasta o di riso ben cotti e si possono utilizzare comodamente quelli per l'alimentazione umana. Io qua vi ho preparato, vi faccio vedere quello che usiamo solitamente. Il cane è il riso che utilizziamo anche per noi, costa 70-80 centesimi al chilo. Un cane di taglia media, quindi se siamo tra i 20-25 grammi, dovrebbe mangiare qualcosa come circa 80-100 grammi di riso pesato a crudo. Ecco qua la nostra carne, questa siamo andati a prenderla questa mattina in macelleria. Io non l'ho nemmeno controllata, però questo è quello che in effetti ritiriamo ogni uno, ogni due settimane per i nostri cani. Chiediamo le rifiliature. Se utilizzate della zucca già cotta al forno, piuttosto che non delle zucchine crude, quelle possono essere aggiunte nella pappa durante la cottura, nella parte finale, che comunque la verdura sia ben cotta, la stessa cosa di casi degli spinaci. Se invece utilizzate qualcosa come qua le carote crude, potete utilizzare già il tritacarne per passare, renderle più piccole in modo che vengono ammalgate meglio nella pappa. Il riso è pronto, sono state già aggiunte le carote, che in effetti ci mettono un pochettino più di tempo a cuocersi, e tra un po' metteremo la carne. Perché bisogna cuocerla la carne? Allora, la carne va, diciamo sì, cotta, giusto scottata, abbassano a 70 gradi, e lo dobbiamo fare perché in condizioni di macellazione non buone può presentarsi il morbo di Jauselski, che per l'essere umano è assolutamente innocuo. Questo è presente nella carne di maiale, che però per il cane e per il gatto ha un esito mortale. Non c'è nessun antidoto, muoiono nel giro di poche ore, una morte tra le altre cose orribile. Viene chiamata anche comunemente pseudorabbia. Non è la rabbia, è un'altra malattia. Però bisogna assolutamente tenerne conto. E questo è il motivo per cui la carne, per quanto loro possa piacere, sarebbe meglio non darla cruda. Il nostro riso pronto, noi non dobbiamo fare nient'altro che aggiungere la carne. E adesso, in questo istante, io rigiro tutto quanto, in modo che si amalgami bene, e il calore che c'è qua nel tegame è già della temperatura giusta per praticamente incominciare a uccidere quel morbo di Jauselski di cui parlavamo prima. Quindi io adesso non devo fare nient'altro che spegnere e incoperchiare e aspettare che si raffreddi. Visto che però noi non abbiamo tanto tempo, vi abbiamo già preparato il pastone pronto e adesso diamo da mangiare i nostri paus. Grazie a tutti.